Mary Jane ASMR ciao ragazzi bentornati sul mio canale io sono Mary Jane A S M R è il mio compito qui e farvi rilassare quantomeno spero di riuscirci oggi libereremo la nostra mente dai pensieri negativi che ci devastano che ci incutano tanta tanta paura purificheremo un po' le nostre energie voi non dovete fare altro che indossare gli auricolari e rilassarvi un po' rilassamento allora voglio iniziare voglio iniziare questa forma di rituale purificando l'ambiente attorno a noi attorno a noi lo farò con il palo santo lo farò con il palo santo lo facciamo accendere poi spegnere il fumo il fumo viene verrà fuori l'ambiente purificherà ecco l'ambiente attorno a noi attorno a noi attorno a voi attorno a voi profumo e fantastico così da instaurare energia positiva giorgate nel frattempo di abbandonare tutto quello che vi da pensiero ok? concentratevi soltanto su voi stessi o meglio ancora sulla visione di questo video alla vostra mente al vostro cuore ci penserà anche per i geni e è spento accendiamo un po' l'altra perchè siamo in tanti a guardare questo video ok 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 Se siete distesi cercate di alleggerire tutto il vostro corpo, abbandonatevi All'inizio vi sentirete pesanti, ma in realtà vi starete solo a leggere questo è il prelievo dei pensieri negativi più potenti che tu abbia mai visto e sperimentato e poi andate e poi andate e poi andate e poi andate Grazie a tutti. Ok, allora so perfettamente che ci sono un po' di difficoltà, le vedo, le puoi vedere anche tu, oltre a percepirle, ora le puoi vedere perché è tutta una rete questo, di pensieri che insieme creano negatività, ok? Ma insieme le elimineremo. Io prelevo decisamente con delicatezza ma lo stesso con fermezza questi brutti pensieri. Vado a tagliare 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 ridursi in polvere e con il soffio più potente mando via io posso liberarti dalle negatività che trovano spazio nella tua mente ecco a causa delle paure io rimuovo i pensieri brutti le difficoltà tutti i dubbi e le incertezze cac 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 e spriti 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 disintegra in polvere prendo polvere 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 e butto via ecco ecco il prelievo dei pensieri brutti ecco lì qua che si ostinano per rimanere lì nella nostra testa guardali finalmente però sono fuori ecco 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 mi vogliono essere proprio incubi perché ti ostini a pensarci ancora? è tutto così contorto non ci pensare guarda guarda qui quanto rancore c'è questo rancore non deve stare dentro di te vedi? porta tanta negatività il rancore taglio taglie tagli 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 spregiolo 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 ecco qua lo consumo totalmente questo è proprio brutto il rancore com'è possibile che ci sia questo rancore nella tua mente non ti preoccupare lo togliamo subito spregiolo scuro spregiuolo 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 sp ME alleggerisci il pensiero svuota la mente come ti senti in questo momento? respira profondamente fai respiri profondi non importa quanti fanne finché ne senti il bisogno di farli farli con me senti il bisogno di farli la testa pian pian inizierai a sentirla più leggera un senso di vuoto che porta benessere però vuoto di leggerezza 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 so che i cattivi pensieri ancora non sono finiti sono lì ancora altri pensieri adesso continueremo la rivoluzione ok io tolgo prelevo 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 tutti 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 i pensieri negativi qui vedo il filo prelevo della rabbia questo della tristezza anche la delusione in mezzo ecco perché tristezza causata dalla delusione e rabbia non hai motivo per essere arrabbiato la frustrazione ne deriva poi da questa negatività e noi dobbiamo fare in modo che questo non accada prelevo i tuoi pensieri negativi e zac ci hai ci hai ci hai ci hai c'è nulla c'è nulla crica ando via lontano lontano da noi ora ti darò un po' della mia energia della mia positività positività della mia energia positiva energia positiva che spingo 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 verso di te ok energia positiva ecco qui per te dimmi se ti sei sentito un po' più leggero dovresti sentirti meglio dovresti dormire meglio con questo video io da qui ti auguro tanti bei sogni e tanta 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 energia energia super positiva se ti è piaciuto questo video lasciami un like iscriviti al canale se non sei ancora iscritto ci rivediamo al prossimo prossimo video vi 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 vi